potter chi è quell'idiota che ha spento la luce è saltata la corrente è straordinario come in questo castello continua a saltare la luce per ogni cagata che cosa hai acceso ma niente acceso solo la lavatrice poi la lavastoviglie e lo scaldotto per scaldarmi le dita dei piedi che ce l'avevo gelato e ora vanno meglio o vuoi che te li lecco un po' per scaldarmi che cosa credo sia la bolletta dell'era davvero leggiamola rivela la bolletta minchia ha funzionato qui dice è nell'energia e lieta di comunicare che la spesa mensile rientra nei costi stabiliti alla stipula del contrario ma allora perché è saltata forse perché accesa anche il forno per farmi una bella pizza margherita pezzo di merda sapevo che buonasera bene bene lupin è arrivato il temibile chihuahua mannaro vero harry tutto bene dammi questa foglia mentre eri al parco a defecare tre cespugli a pisciare sugli alberi io ho trovato questa bolletta molto interessante potrebbe spiegare il perché non ci sia più luce nel buone dubito fortemente severus qui c'è scritto solamente che c'è stato un errore nella bolletta ci sarà un conguaglio a fine mese siete proprio due coglioni ciò nonostante l'elettricità del castello è di mia competenza e se vi azzardate ancora una volta mettere il becco nei miei affari mi trasformo il lupo mannaro e cago nel letto di harry è chiaro buonanotte un luogo di osso ecograzione Grazie a tutti.